Ciao bimbi, sono la maestra Anna-Lisa. Oggi vi racconterò la storia dal titolo Il coniglio di Pasqua e il grande uovo. È il giorno di Pasqua e il coniglietto rosa esce dalla sua tana per nascondere tre piccole uova. Quello blu lo metto dietro all'albero, poi quello rosso lo nascondo bene dentro al cespuglio e quello giallo tra le foglie d'erba. Ma quando arriva il turno del grande uovo rosa a Pasqua, il coniglietto si accorge che l'uovo fra proprio il birichino. Il coniglietto lo mette qua e lui si sposta un po' più là. Il coniglietto allora lo mette qui e l'uovo si sposta lì. Ma proprio mentre sta per spostare di nuovo l'uovo accade qualcosa di meraviglioso. Dall'uovo esce fuori un bel pulcino che grida Pio Pio, sono il pulcino di Pasqua. Pio Pio, bambini, buona Pasqua! Ciao bimbi, alla prossima avventura! Pio Pio, bambini, buona Pasqua! Pio, bambini, buona Pasqua!